Un saluto più decente come volete a chi è ben trovati nel mio show Oggi signori si parla di acronimi Acronimi, acronimi, acronimi Praticamente, allora perché intanto avete sentito Lucky e non Luke Nell'intro, comunque nella frase iniziale che dico sempre nei miei video Perché sì, questo momento in poi io non sono più Luke Ma sono Lucky Perché questa qui è la rivoluzione di Luke È il cambiamento di Luke, il cambiamento più grande Ma perché questo cambiamento ragazzi? Perché avete sentito Lucky e non Luke Adesso sono Lucky e non sono più Luke Perché praticamente dovete sapere che ragazzi Un giorno io e Francesco in arte su Bion Ci siamo ritrovati in chiamata insieme E praticamente abbiamo scelto questo nome Praticamente ci siamo ritrovati in chiamata insieme E praticamente ragazzi Subbion ha detto È un po' banale il Luke come nome, capito? Poi c'è già Luke4316 Quindi praticamente ragazzi non mi va di copiare il youtuber Oppure essere comunque con un nome simile all'altro youtuber Grazie alle attività celebreali di Subbion incredibili Siamo riusciti a trovare questo bellissimo nome che è Lucky C'è un po' un nome del cane Però vabbè fa niente, fa niente ragazzi E niente ragazzi Questa era la notizia che vi dovevo dare Praticamente è una notizia veramente molto bella E praticamente adesso sentite nel video Un saluto a tutti la gente E qua per voi Lucky E quindi praticamente ragazzi Con il nuovo nome io vi saluto Lucky vi saluta E ci vediamo in un prossimo video E la prossima live A gente Ogni parte E... E...